Ieri sera sono stato invitato all'apertura di un nuovo ristorante Ropponghi. Si chiama Nikugen ed ha una sede anche ad Akasaka. L'ambiente è ricercato ma amichevole e rumoroso. Hanno una cella con oltre 80 vini ed è specializzato in yakiniku, carne alla griglia che i clienti si cucinano direttamente al tavolo. Ovviamente anche le verdure e i contorni non mancano. Con me erano invitati anche Sebastiano Serafini, Andrea Secco e l'artista Erina Takeichi che vi consiglio di seguire su Instagram. Ci hanno portato un sacco di cose da mangiare. La carne che utilizzano è Black Angus Beef proveniente dagli Stati Uniti ed è fatta affrollare col metodo wet aging per 40 giorni. Il menù è ampio. Io vi consiglio eventualmente di provarlo a pranzo quando si può mangiare con solo 1000 yen. Durante la serata ho avuto l'onore di conoscere Kaji Yukio, presidente di Monogatari, un'enorme società proprietaria di centinaia di ristoranti. Ci sono stati vari momenti di intrattenimento con una pittrice che dipingeva a ritmo di sax. Poi è venuto anche lo chef a parlare con noi ma non ho la più pallida idea di cosa ci abbia detto perché io pensavo principalmente a mangiare come al solito. Per concludere del gelato è una torta di miele molto buona. Trovate tutte le informazioni di questo ristorante in descrizione. Venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!